Basta un tempo di dominio del Pergine per avere meglio della Fortis battuta in casa 3-0 dalla formazione di Tommaso Grassi. Il Pergine porta a casa i tre punti lasciando alla Fortis una problematica situazione in classifica. La gara si sblocca al 31esimo, rete di Gogi che mette alle spalle di Claudi la respinta corta di schiena di un difensore della Fortis su un precedente tiro di Stajano. Occasionissima per la Fortis al 37esimo, Mercantini dopo un pregevole scambio con Battrino si porta solo davanti al portiere ospite ma è anticipato al momento del tiro da un ritorno provvidenziale di Giusti. Il Pergine raddoppia al 45esimo con Borgogni che salta come virili difensori, si porta davanti all'incolpevole Claudi e trova la via della rete. Nella ripresa la Fortis prova a reagire ma non c'è niente da fare dopo una traversa del Pergine arriva la terza rete. All'ottantaduesimo arriva il 3-0 grazie a un calcio di Chico che è concesso dall'arbitro dal Pra di Firenze. Con la Torraca una partita da dimenticare quella di oggi? No, prima di tutto non è giusto nemmeno appellarsi all'arbitro perché ha usato un metro e l'ha usato con tutte e due le squadre quindi non è l'arbitro il problema. Noi siamo questi, i ragazzi si stanno impegnando, sul 3-0 hanno continuato a cercare di recuperare padroni in mezzo al campo, purtroppo ci sono dei problemi organici. Oggi ha giocato gente che aveva la febbre, qualcuno è rientrato venerdì da lunghi infortuni. Siamo questi, abbiamo problemi di organico, interverremo, però i ragazzi sul 3-0 hanno comunque continuato a giocare, poi i gol sono venuti purtroppo per due episodi tecnici sfortunati. Abbiamo cercato di raddrizzarla la partita, purtroppo noi abbiamo forse giocato un po' di più, loro hanno fatto i gol e noi no. Potevamo segnare anche noi perché comunque abbiamo avuto diverse palle e gol. Però in questo momento siamo questi, io e i ragazzi se lottano non gli posso dire niente, si impegnano, quindi ci sono dei problemi, questo è ovvio, lavoreremo, continueremo a lavorare. Io ci metto la faccia tranquillamente, nel momento in cui la squadra sarà scarica sarò il primo a dirlo, ma questa squadra comunque ancora ha intenzione di reagire e finché tutti insieme avremo questa convinzione andiamo avanti e cercheremo di salvarci.